quello che vediamo ora è il macabro spettacolo che si presentava ai sopravvissuti indenni ma con la morte nel cuore che si recavano in pellegrinaggio su alla diga dopo aver soccorso gli sfortunati parenti con paesani o valligiani rimasti feriti dai crolli delle loro abitazioni mentre la furia dell'acqua spazzava via tutto oppure dopo aver dato una cristiana sepoltura con le esequie comuni a tutti gli sfortunati che il destino volle che la loro vita terminasse in quella tragica alba del primo dicembre del 23 per colpa di chi sordo alla voce della saggezza popolare che mentre si erigeva la diga e veniva riempita d'acqua man mano che cresceva gli diceva quale cose non vanno bene ma per capire perché nel dicembre nel 23 la diga sia crollata bisogna risalire a quando fu iniziata la seconda parte della sua edificazione che passò da una a gravità pesante ad una ad archi multipli perché è da lì che è cominciato il tutto non è solo l'ultima goccia d'acqua che fa traboccare il vaso ma anche tutte le altre che lo hanno riempito allora noi adesso premiamo il tasto ritorno veloce e in pochi secondi faremo andare all'indietro il tempo e la diga col suo scorrere a ritroso la vedremo disfarsi finché giungeremo all'edificazione del solo tampone arrivati a questo punto premiamo lo stop ora adesso assieme agli operai del cantiere ricostruendo la diga vedremo la negligenza dei responsabili della sua edificazione il primo errore è stato nell'impasto del calcestruzzo perché lo hanno realizzato con inerti di misure troppo grosse però questo sarebbe stato il male minore se fosse stato lavato e mischiato con impastatrici meccaniche e cemento perfetto non magari andato a male per aver preso dell'umidità il secondo fu la costruzione dei basamenti sui quali poi vi hanno edificato i piloni e in questa foto lo vediamo benissimo come hanno fatto a realizzarli hanno utilizzato i sassi più grossi recuperati mentre grigliavano gli inerti e tenuti assieme con del calcestruzzo se così si poteva chiamare e su dei basamenti che al massimo ci si può costruire sopra un edificio di due o tre piani hanno avuto la pretesa di impiantarvi dei piloni alti come una casa di dieci piani e che dovevano poi sorreggere il peso di 240.000 tonnellate ognuno il bello è che a fare i calcoli sono stati degli ingegneri era sufficiente chiederglielo a un manovale se fondazioni simili potevano andar bene per una diga di quelle dimensioni e quello gli avrebbe detto di no e poi la mancanza totale di ferro perché si formasse un corpo unico della costruzione vedendo come hanno fatto a realizzare queste fondazioni tutte scollegate l'una dall'altra non riesco a capire come quella digali sia potuta restare in piedi per diversi mesi sopportando la pressione di tutta quell'acqua alle sue spalle irresponsabile no sarebbe meglio chiamarli i criminali che l'hanno progettata e diretto i lavori è mai possibile che non si siano accorti dai piccoli cedimenti e prendere le perdite d'acqua sempre crescenti come avvisaglie che la diga non poteva reggere a lungo e sì che diverse persone del cantiere lo fecero presente ai vari responsabili che vi era qualcosa che non andava era sufficiente ascoltare il buon senso di chi lavorava alla costruzione della diga e benché privo di studi ma forte di una decennale esperienza nel mondo dell'edilizia per sentirsi dire che la cosa non poteva durare e poi la mancanza assoluta di ferro in tutta la sua costruzione a partire dalle fondazioni all'edificazione dei piloni gli archi ai tre contrafforti due centrali e uno laterale che vediamo ora io mi domando dove cavolo sono andati a finire i 5.000 quintali di ferro impiegati nella costruzione della diga ma ora entriamo più nei dettagli i piloni più i tre contrafforti sono in tutto 25 e li vediamo nella foto perciò 5.000 diviso 25 risulta che per ogni pilone ed arco sono stati utilizzati 200 quintali di ferro ora andiamo a vedere se in tribunale hanno raccontato la verità perché io delle parole degli avvocati non è che mi fidi molto se avessero impiegato veramente i 5.000 quintali di ferro noi dovremmo vedere più o meno immagini simili siamo d'accordo ora invece ci vediamo come stanno le cose in realtà e le conclusioni le lascio tirare a voi ora andiamo con quello che per me è stato il vero tallone d'achille della diga ad archi multipli l'aver appoggiato i basamenti dei piloni sul tampone e siccome man mano che la diga veniva edificata vi alzavano pure il livello dell'acqua e le foto questo ce lo mostrano in modo inequivocabile l'umidità che si vede significa che stava cedendo sotto il peso della diga in costruzione inoltre il calcestruzzo messo in opera non essendo stato vibrato era molto poroso specialmente in basso dove la pressione era maggiore e filtrava acqua ad ogni parte una volta ne abbassarono anche il livello e cercarono di impermeabilizzarla con uno strato di cemento e bitume che vediamo ma riportato ancora il livello dell'acqua a quello precedente risultò tutto inutile e le perdite tornarono come prima invece di prendere questo come avvertimento e accontentarsi di realizzarla come era nel progetto originale di 3 milioni di metri cubi d'acqua e cercare di stabilizzarla si è preferito terminarla fino a raddoppiarne il contenuto e così poi è andata a finire come lo sappiamo durante il processo con il quale si cercò di stabilire quali furono le cause del crollo se ne dissero di tutti i colori si parlò anche di un attentato altri dicono che il proprietario l'aveva edificata cercando di risparmiare su tutto e quello che era il vanto del signor Viganò di essere riuscito a edificare la diga dei suoi sogni spendendo solo 5 milioni durante il processo gli si rivoltò contro a fatti accaduti è molto facile trinciare i giudizi sulla sua infelice edificazione comunque oltre che del signor Viganò la colpa e anche delle autorità che secondo me non chiusero solamente tutti e due gli occhi su come veniva svolto il lavoro ma si tapparono pure le orecchie per non ascoltare quello che il buonsenso della gente andava dicendo sia nel paese che sua il cantiere ma ora non voglio più annoiarvi e vi rimando al prossimo ultimo video che tratterà di quanto successe a quei inermi cittadini i quali la furia dell'acqua dove passò oltre che portar via il frutto del lavoro di diverse generazioni gli strappò anche il bene più grande la vita è quella dei loro cari un po' di loro cari Grazie a tutti.